Pronto? Pronto, Dario? Che c'è Mase? Sto facendo una cosa che potrebbe essere gazzada, riusciresti ad aiutarmi? Non posso ora, sto cercando le arte Pokemon. Va bene, allora trovale e vieni qui ad aiutarmi. È quello il problema, non riesco a trovarle. Come? Non le trovo, ci sono solo Magic. In che senso ci sono solo Magic? Vi do solo Magic e torno a me. Cambia luogo allora, Cristo. De calmino però, non c'è bisogno di urla. Vi do ancora solo Magic. Cosa vuol dire ancora Magic? Vi do soltanto arte Magic. Allora vai in un altro posto magari. Anche qui solo Magic. In che punto sei ubicato ora? Sono Magic. Dove sei adesso? Di preciso. Sono al GP di Magic. Perché stai cercando carte Pokemon al GP di Magic? Mase fonti ti dio meo.